Senta, due cartoline perché i suoi collaboratori si arrabbiano. Il primo sui vitalizi è questa battaglia che lei sta combattendo per abolire vitalizi. Insomma, i cittadini sono un po' arrabbiati su questo fronte. Un po', lei sta diventando diplomatico. Altro che un po', sono arrabbiati e arrabbiati di brutto. Fanno bene, io sono orgoglioso di essere un politico senza vitalizio. Le cose che stiamo facendo dal tetto degli stipendi alle auto blu, alla lotta alla casta, è un qualcosa che sta producendo dei risultati. Spero che riusciremo a farlo anche sui vitalizi, lì c'è un problema costituzionale. Però i politici devono essere vitali, devono avere vitalità, non devono pensare a vitalizio. È una cosa diversa.